Buongiorno a tutti e benvenuti alla 42esima lezione della nostra storia romana che sarà dedicata al regno di Costantino, meglio conosciuto come Costantino il Grande, che ha regnato tra il 305 e il 337. E' bene dire che per capire il regno di Costantino bisogna sempre tenere presente che fra tutta la storia dell'impero romano Costantino è forse l'imperatore che gode, potremmo dire, del miglior ufficio stampa perché poi è quello che è stato celebrato dalla storiografia cristiana come colui che ha fondato l'impero cristiano, cioè che ha convertito in pratica l'impero dal paganesimo al cristianesimo. Bisognerà vedere se effettivamente così è questa lezione, parlando appunto delle cose fatte da Costantino, si pone anche questa domanda. Ma andiamo con ordine perché eravamo arrivati nella scorsa lezione a dire che nel 305 Diocleziano e Massimiano, i due augusti della tetrarchia, avevano così fatto atto di abdicazione, quindi avevano lasciato il potere e Diocleziano più convintamente, siccome era una sua idea, mentre era invece Massimiano un po' controvoglia, ma comunque avevano abdicato. Bisogna dire che almeno a questa prima prova l'impalcatura tetrarchica voluta da Diocleziano effettivamente funzionò perché all'abdicazione dei due augusti scattò automaticamente la nomina ad Augusto dei due cesari, vale a dire Galerio e Costanzo Cloro. I nuovi augusti a questo punto nominarono a loro volta due nuovi cesari, esattamente come prevedeva l'istituto tetrarchico, e vennero nominati da Galerio Massimino Daia e da Costanzo Cloro Flavio Severo. Per un anno quindi, fra il 305 e il 306, tutto sembrò procedere esattamente come era stato previsto da Diocleziano. Nonostante l'apparenza però, alcune crepe possono essere trovate anche nell'apparente tranquillità di queste successioni. I due cesari erano infatti di nomina puramente orientale, cioè erano fatti nella sfera di influenza di Diocleziano in pratica, perché Massimiano e Costanzo Cloro, vale a dire l'Augusto che si era dimesso e il Cesare diventato Augusto, non avevano avuto, non avevano espresso alcun parere in merito alla scelta dei due nuovi cesari che erano stati fatti quindi da Galerio con il patrocinio di Diocleziano in pratica, quindi con una preeminenza della parte orientale dell'impero che bisogna dirlo già da questo momento, già dal III secolo anche, è ormai la parte più ricca e anche quella culturalmente più avanzata dell'impero, anche da un punto di vista giuridico. Quindi il baricentro dell'impero possiamo dirlo che si spostava sempre più saldamente all'Oriente con un evidente malcontento di Massimiano che già non era stato contento di essere costretto ad abdicare e in più perde comunque tutto il suo potere politico, non potendo neanche esprimere un parere sui nuovi cesari. In questi aspetti ci dicono che il sistema costituzionale tetrarchico, per quanto immaginato solido e per quanto immaginato con un meccanismo automatico, non era immune dalle strategie e dai pesi politici perché poi i cesari andavano scelti, di conseguenza è lì che entrava in gioco la politica, è lì che quindi ognuno esprimeva il peso politico che rappresentava. Tuttavia, a scompigliare le carte, nel 306 a York, che allora si chiamava Embracum, Costanzo Cloro morì improvvisamente e questa morte imprevista dell'Augusto manifestò tutta la fragilità del sistema. Sebbene infatti dovesse essere automaticamente nominato Augusto Severo, che era stato nominato Cesare l'anno precedente, le truppe britanniche dell'imperatore defunto, le truppe di Costanzo Cloro, proclamarono imperatore il figlio di Costanzo Cloro, l'abbiamo detto tantissime volte, gli eserciti sono molto affezionati al principio di successione dinastica ed ecco qua che quindi, e abbiamo visto tantissime volte nel corso del terzo secolo, questo ruolo politico degli eserciti nel proclamare un imperatore, un ruolo di cui gli eserciti, l'abbiamo detto anche questo, erano estremamente consapevoli della pressione politica che avrebbero potuto esercitare per l'importanza che l'esercito rivestiva nella complicata congiuntura fra terzo e quarto e quinto secolo, poi anche della difesa dell'impero. Quindi le truppe britanniche eleggono Costantino, vale a dire il figlio di Costanzo Cloro. La proclamazione di Costantino appunto però non deve sorprenderci così tanto perché per tutto l'alto impero si è visto come il, già dall'alto impero potremmo dire, si è visto come il principio dinastico forse particolarmente apprezzato non solo dall'esercito ma anche dal popolo ed erano soprattutto i soldati di ranghi inferiori che avevano l'abitudine di prestare fedeltà ad una dinastia regnante al momento del loro ruolamento e che rimanevano affezionati alla dinastia sotto la quale si erano arruolati e quindi è dalla pancia dell'esercito che nasce appunto la proclamazione del figlio di un imperatore. Bisogna dire come avevamo accennato in una delle precedenti lezioni che l'esercito dove appunto anche i soldati di rango inferiore potevano esprimere il loro peso politico era rimasta in epoca imperiale l'unica in qualche modo traccia di un peso effettivamente esercitato da membri del popolo perché i soldati soprattutto quelli di rango inferiore sono tutti membri della cittadinanza romana soprattutto dopo l'estensione della cittadinanza tutti gli abitanti dell'impero gli unici che erano esclusi da questo meccanismo erano ovviamente i barbari che combattevano nell'impero romano ma questo è un altro discorso. In ogni caso non è un caso che già in passato in casi analoghi in teoria l'imperatore avevamo visto dei casi in cui si erano inaugurati delle dinastie e avevamo anche visto quanto gli imperatori del terzo secolo pensiamo anche a Caracalla e della Gabalo ad esempio si premuravano di connettere se stessi alla dinastia precedente, loro si erano collegati con la dinastia degli Antonini per autolegittimare il proprio potere, una dinastia che era già finita in realtà con Commodo nel 192. L'adozione stessa da Nerva in avanti era stata comunque ammantata di un principio dinastico, noi l'avevamo definita infatti come un principio paradinastico perché non si tratta solo di nominare un successore ma si tratta di adottarlo quindi di farlo entrare nella propria famiglia di conseguenza principio paradinastico. Lo stesso Costantino operò una scelta simile quando poi si premurò di riconnettere la propria discendenza a quella di Claudio secondo il gotico, anche lui diceva quindi voleva così legittimare maggiormente il proprio potere riconnettendolo a quello di un imperatore precedente quindi per formare una linea di continuità dinastica. Così come non deve sorprendere il favore delle truppe accordato al figlio di Costanzo Cloro, parimenti non deve stupire l'analogo favore incontrato da Massenzio che era il figlio dell'altro Augusto Massimiano, ex Augusto, che era stato proclamato imperatore nello stesso anno dalle truppe stanziate a Roma. Massimiano ancora in vita si affrettò immediatamente a benedire le lezioni del figlio quindi vedete come la situazione è estremamente complicata perché fra il 306 e il 308 il numero di Augusti e di Cesari legalmente o secondo il sistema tetrarchico illegittimamente proclamati degli eserciti salì quindi a 6 quindi avevamo fra Augusti e Cesari ben 6 nominati imperatori per diventare poi 7 quando anche Massimiano nonostante in campo ci fosse già anche il figlio Massenzio, Massimiano che l'abbiamo detto aveva accettato malvolentieri l'abdicazione, deciso di tornare in campo e quindi siamo addirittura 7 potenziali imperatori. Diocleziano a questo punto che era ancora in vita si era ritirato dalla sua bellissima villa di Spalato per tentare di sopravvivere, di far sopravvivere il suo sistema decise di convocare quindi una riunione che si tenne a Carnuntum, centro principale della Pannonia superiore corrispondente oggi al territorio dell'Austria meridionale, una riunione che si tenne nel novembre del 308. Già in partenza tuttavia la riunione degli Augusti adottò una strada non esattamente in linea col sistema tetrarchico, cioè non era una riunione in cui ci si è limitati semplicemente a ribadire la legittimità e la legalità del sistema tetrarchico doveva far fuori gli altri, perché Costantino e Massimino Daia vennero nominati ufficialmente Cesari. A causa della morte però improvvisa di Severo, come Augusto d'Occidente, venne nominato Licinio, che era stato un suo luogo tenente che finora non c'entrava assolutamente ancora nulla, che aveva servito sotto Galerio fino alla campagna contro i persiani. Completamente esclusi dalla riunione di Carnuntum, dalle assegnazioni e dalle ratifiche delle nomine, furono invece Massenzio e il padre Massimiano. Quindi in questa riunione di Carnuntum, nonostante la presenza di Diocleziano, invece di giungere ad una sistemazione che in qualche modo consolidasse il sistema, si posero in realtà le basi per la guerra civile che sarebbe divampata immediatamente dopo, perché dall'incontro di Carnuntum possiamo dire che uscirono tutti insoddisfatti. Galerio, che dopo il ritiro definitivo di Diocleziano era diventato effettivamente senior Augustus, e cioè doveva essere, come era stato di Diocleziano, l'Augusto, un po' sopra l'altro Augusto, l'Augusto al vertice, civile costretto ad accogliere le rivendicazioni di Costantino e del suo Cesare Massimino D'Aia, nominandoli entrambi Augusti. Quindi vedete la situazione è in evoluzione molto velocemente, perché Costantino era appena stato ratificato, nominato Augusto dalle truppe. Alla riunione dei Cesari, degli imperatori, gli dicono, va bene, diventi Cesare, ma solo Cesare, e immediatamente dopo ecco che viene invece nominato Augusto, con Massimino D'Aia, che era Cesare e rimane Cesare di Costantino, con la medesima carica di Augusto mantenuta anche per Licini. Quindi si trattava di una tetrarchia di soli Augusti, praticamente avevamo come Augusti Costantino, Massimino D'Aia, Galerio e Licini, tutti con il titolo di Augusto. Massenzio non aveva invece nessun titolo che ne legittimasse un potere che in realtà però nella pratica continuava a mantenere in Italia grazie all'appoggio dell'esercito, cui parlava valentemente composto di pretoriani. Una situazione di questo tipo è evidente che non fosse destinata alla stabilità, non poteva durare, e nel 310 e 311 inoltre morì tutta la vecchia guardia della tetrarchia Massimiano, Diotreziano e Galerio, nello spazio di un anno e mezzo, morirono tutti quanti. Questo sancì l'inizio degli scontri diretti tra i nuovi Augusti, quasi che fosse venuto a mancare il freddo che gli aveva trattenuti fino a quel momento. Così nel 312 Costantino sconfisse Massenzio nella battaglia romana del Ponte Miglio, molto famosa anche questa qua. Una vittoria che infatti venne in seguito celebrata dalla storiografia cristiana come la prima vittoria del cristianesimo sul paganesimo, ma perché è così importante? L'episodio ci ha raccontato De Eusebio di Cesarea, vescovo e padre della chiesa, vissuto in contemporaneo degli avvenimenti, storico ecclesiastico e consigliere di Costantino a partire dal 325 e anche suo biografo. Secondo il racconto della biografia di Costantino scritta appunto da Eusebio di Cesarea, scritta probabilmente subito dopo la morte di Costantino quando l'imperatore si accingeva a combattere la battaglia decisiva contro Massenzio, rivoltosi in preghiera alle divinità pagane, fu testimone insieme all'intero esercito di un evento celeste prodigioso, l'apparizione di un crocio di luci sopra il sole con la scritta in greco e in tuntonica, cioè sotto questo segno vincerai, la cui traduzione latina è inoxinio vinces. Quindi Costantino prima della battaglia decisiva contro Massenzio assiste a questo fenomeno celeste. La notte successiva gli sarebbe poi apparso in sogno Cristo che gli avrebbe ordinato di adottare come proprio messino il segno che aveva visto in cielo. Nei giorni successivi Costantino avrebbe poi convocato dagli sacerdoti cristiani per essere edotto su una religione che in quel momento lui non conosceva. L'imperatore diede quindi l'ordine che le truppe venissero precedute dal vessillo reccante il segno cristologico Chiro. Chiro è il cosiddetto monogramma di Cristo che è formato dalle prime due lettere in greco della parola Cristo chi e ro Christos che vedete qui riprodotto nel riquadro in basso a destra. Sotto queste insegne i soldati di Costantino sbaragliarono le truppe di Massenzio che morì schiacciato e annegato dal crollo del ponte Miglio. Eusebio stesso raccontandoci questa cosa nella biografia di Costantino si dichiara scettico riguardo al racconto e ci dice che può essere degno di fede proprio perché per la sola ragione che fu proprio Costantino stesso a raccontarglielo. Inoltre nell'opera precedente di Eusebio, vale a dire nell'istoria ecclesiastica scritta quando Eusebio non aveva ancora conosciuto Costantino, si narra della battaglia del ponte Miglio ma non si fa alcun riferimento ad eventi miracolosi. La vicenda è raccontata poi anche dall'attanzio precettore dei figli di Costantino nel De Mortibus Persecutorum e anche in questo caso non viene menzionata alcuna visione ma si fa riferimento al sogno nel quale a Costantino sarebbe stato ordinato di utilizzare il chiro come simbolo sugli scudi dei soldati. L'attanzio tuttavia non ci dice chi in sogno avrebbe dato quell'ordine, cioè non scompa la presenza di Gesù. In ogni caso appunto una battaglia che è celebrata dalla storia cristiana come appunto la prima volta che il potere statale si è affidato appunto alla fede cristiana e è riuscita grazie all'adesione al cristianesimo a sconfiggere l'avversario pagano, quindi è una sorta di vittoria del cristianesimo, in Oximio vince, se sotto questo segno c'è sotto il cristianesimo tu vincerai. In ogni caso nel 313 Licinio che si era temporaneamente alleato con Costantino riuscì a sconfiggere Massimino d'Aia, la tetrarchia era di nuovo regredita in una diarchia, cioè eravamo Costantino e Licinio come ai tempi di Diocleziano e Massimiano con Costantino che era padrone dell'Occidente e Licinio dell'Oriente. La convivenza pacifica tra i due Augusti non durò neanche poco perché durò addirittura dieci anni. Successivamente però divergenze politiche e soprattutto religiose condussero allo scontro che si tende in due successive fasi, prima nel 316 e poi nel 324 con la battaglia decisiva di Crisopoli in Calcedonia dopo la quale, e fino alla sua morte nel 337, Costantino divenne l'unico imperatore, quindi governò da solo per tredici anni. Già prima di diventare padrone assoluto dell'impero però, Costantino, almeno dal 315-316, diede avvio ad una serie di riforme nella propria parte occidentale dell'impero. Si trattò di una sorta di sperimentazione politico-amministrativa che dopo la vittoria di Crisopoli venne poi estesa a tutto l'impero. Le fonti pagane e quelle cristiane sono concordi nell'attribuire a Costantino gli attributi dell'innovatore e attenzione, se noi troviamo fonti pagane e fonti cristiane che normalmente sono molto ostili con i rispettivi oppositori, nel senso che con imperatori filocristiani le fonti pagane normalmente sono ostili e viceversa, quando troviamo accordo fra le fonti pagane e le fonti cristiane allora è un segno abbastanza degno di fede, è un'informazione degna di fede. Accanto a Diocleziano, Costantino è quindi ritenuto dalla storiografia contemporanea ancora come il fondatore del tardo impero romano. Abbiamo visto l'altra volta, vi invito a andare a rivedervele, le profonde riforme strutturali introdotte da Diocleziano. Fino agli anni 60-70 del 900 la storiografia ha però tenuto distinta l'interpretazione dell'operato di Diocleziano da quella di Costantino, spesso addirittura contrapponendoli perché l'immagine che passava a causa del filtro del cristianesimo era che Diocleziano era stato l'ultimo grande persecutore del cristianesimo mentre Costantino era stato il primo imperatore cristiano. Di conseguenza veniva bene di opporli l'uno all'altro e in realtà vediamo che non è assolutamente così. In realtà infatti oggi la storiografia incline a concedere ancora a Costantino i gradi di innovatore ma lo colloca in una sostanziale linea di continuità con Diocleziano. Oggi di conseguenza si preferisce definire l'impero tardo antico come una creazione dioclezianeo-costantiniana riconoscendo equamente ad entrambi i meriti della grande azione riformatrice che plasmò l'ultimo impero romano. Io aggiungo ancora che sono imperatori le cui riforme sono celebrate moltissimo che avrebbero ritrovato l'unità e rifondato la solidità dell'impero attorno alla figura sacrale del potere che si concretizzava in un apparato burocratico sempre più pervasivo in tutti i meandri della società. Tuttavia bisogna anche considerare il fatto che, come si vedrà nelle prossime lezioni, dopo Costantino l'impero d'Occidente entrerà in un'agonia senza fine, quindi sarebbe lecito chiedersi qual è stata questo grande ruolo innovatore di Costantino se immediatamente dopo la sua morte l'impero è entrato in una fase di agonia. Voglio dire, quando parliamo di Augusto che plasma il Principato e l'impero romano abbiamo poi di fronte una struttura istituzionale e costituzionale che dura secoli e con secoli anche di benessere, mentre invece questo con Costantino e quindi prima con Diocleziano con le loro riforme non accade, c'è l'impero, continua a rimanere in difficoltà e in agonia. Si tratta semplicemente sì di riuscire a costruire un apparato che possa pensare di funzionare drenando tutte le risorse possibili del territorio, ma in realtà è un impero che non funziona, questo bisogna dirlo. In ogni caso una sostanziale differenza rispetto a Diocleziano va rimarcata in un atteggiamento più marcatamente monocratico di Costantino, che fino alla morte non nominò alcun Augusto, mentre Diocleziano è l'imperatore che aveva fatto la tetrarchia, mentre Costantino quando rimane da solo, da solo ci vuole rimanere insomma. Per il resto la sua concezione dell'apparato statale era la stessa di Diocleziano, i funzionari dell'impero erano rappresentanti del potere imperiale, l'imperatore era l'unica autorità legislativa. L'aura sacrale dell'imperatore si accrebbe ancor di più grazie al rapporto con la chiesa cristiana di cui Eusebio divende grande ideologo, teologico, politico. Il carattere gerarchico e militarizzato della burocrazia venne ulteriormente irrigidito, fu creato uno speciale ordine di rangola comitiva distribuita secondo tre ordines, l'appartenenza ai quali dipendeva solamente dal sovrano. Dal 317 Costantino nominò Cesari i suoi figli Crispo, fatto poi uccidere nel 326, e Costantino II, Costanzo e Costante, quindi quattro figli che diventano quattro Cesari, dopodiché uno lo fa fuori, quindi abbiamo una situazione in cui c'è Costantino con tre Cesari a cui vennero conferiti dei poteri, una giurisdizione delle competenze che ricalcavano quelle della divisione tetrarchica, di cui venne conservata per l'occasione anche la ripartizione territoriale. Però dobbiamo quindi dire che Costantino era geloso del suo titolo di Augusto e voleva essere chiaro nelle gerarchie, probabilmente pensava che il limite di Diocleziano era quello di aver creato una situazione sì tetrarchica e che le intenzioni di Diocleziano dovevano essere anche gerarchica, con un Augusto superiore agli altri, e tuttavia però con questa confusione di nomi, con due Augusti, era anche un po' difficile dire che uno fosse superiore all'altro, ecco che lui vuole pulire il campo da possibili incomprensioni e quindi l'unico Augusto è lui, mentre i suoi figli sono semplicemente Cesari. Costantino non vuole affiancarsi di Augusti e nominare o nominare membri al di fuori del suo cerchio parentale, anche questa è una differenza rispetto a Diocleziano, perché era memore di quanto accaduto negli anni precedenti, sapeva che gli eserciti in particolare erano più inclini ad accordare la fedeltà a membri della stessa famiglia regnante, la parità di qualcuno al vertice del potere poteva essere rischiosa, come dimostrava quanto accaduto dopo l'abificazione di Diocleziano. Era stata proprio l'esperienza di Diocleziano di insegnare a Costantino che ci doveva sempre essere un vertice che garantisse la stabilità del sistema. La tetrarchia, nell'ottica di Costantino, non era di fatto un sistema paritario ma, come abbiamo visto, un sistema nel quale l'Augusto Diocleziano si poneva al di sopra degli altri. Questo ragionamento porta quindi a concludere che con Costantino si rafforzò ulteriormente tutto l'apparato statale che non era altro che l'emanazione del potere dell'imperatore. Si tratta in verità della realizzazione di quanto già teorizzato da un piano, dal grande giurista, o il piano del terzo secolo, secondo il principio dell'imperatore legibus solutus, cioè sciolto dal vincolo delle leggi che abbiamo visto nelle scorse lezioni. La religione fu un aspetto fondamentale dell'accentuazione del carattere monocratico e assoluto del potere imperiale, perché dopo una prima fase nella quale Costantino, a limitazione di Aureliano e Diocleziano, era ricorso al punto del sole. L'imperatore scelse invece di accordarsi con la chiesa cristiana. Costantino aveva presente i risultati deludenti della persecuzione di Diocleziano e, a differenza del suo predecessore, era consapevole che il cristianesimo fosse ormai penetrato in profondità a tutti i livelli della società. Grazie all'apporto ideologico di Eusebi di Cesarea, Costantino presentò se stesso è il potere imperiale come disciplinatori e tutori della stessa religione cristiana. Il potere politico diventa tutore, difensore, patrono, potremmo dire, della religione cristiana. Eusebio fu un maestro nell'operare una traslazione concettuale del rapporto tra imperatore e divinità, che salvasse da un lato l'impostazione teocratica di Diocleziano, ma che si adattasse alla teologia e alla sensibilità dei cristiani. Perché rispetto alla sacralità del potere della figura dell'imperatore, il cristianesimo era di per sé incompatibile, cioè non poteva accettare che l'imperatore fosse effettivamente un dio, era una cosa che poteva andare bene per i pagani, ma non certo per una fede che si proclamava monoteistica come quella cristiana. Le pubbliche manifestazioni di idolatria e di adorazione della figura imperiale e della legge dello Stato lui connessa erano incompatibili con la fede dell'unico dio dei cristiani. Costantino pensò dunque di far coesistere il sistema sacrale di Ocreziano con l'impostazione teologica cristiana, quindi non un imperatore dio secondo i modelli orientali ben esemplificati dal culto del sole, ma un imperatore uomo prescelto da dio per esserne portavoce e apostolo in terra. E qua è l'innovazione fondamentale che salda la storia del cristianesimo, in particolare la storia della chiesa con la storia politica dell'Europa occidentale, cioè questa idea di Eusebio di Cesarea e di Costantino di presentare la sovranità come una sovranità prescelta da dio, investita da dio per esserne sua portavoce in terra, no? E che quindi è poi una concezione, un'idea che noi ritroviamo in tutti le grandi monarchie europee, sostanzialmente, per tutta, diciamo, da quando rinascono le monarchie dopo l'anno vinde fino a, ovviamente, tutta l'età moderna. Eusebio creò pertanto una vera e propria teologia cristiana del potere imperiale, che si rivelò fondamentale per coagulare il consenso dei cristiani verso l'imperatore e verso lo Stato. Questo processo, molto complesso ed elaborato, venne intelligentemente portato avanti per gradi. Come per le altre questioni di Stato, Costantino procedette non perseguendo un programma sistematico e prefissato, ma adattando i propri progetti di governo alle contingenze e alle occasioni che si presentavano. Il primo passo fu il cosiddetto editto di tolleranza emanato a Milano nel 313. Benché la storiografia cristiana e ancora alcuni studiosi moderni accordino a questo passaggio legislativo il momento che segnò il primato del cristianesimo sulle altre religioni, in realtà non fu così. In primo luogo dobbiamo infatti notare che il vero e proprio ditto di tolleranza non fu emanato da Costantino, bensì da Galerio ancora in vita, appena prima di morire, il 3 aprile del 313. In esso si concedeva libertà di culto e di riunione ai seguaci di qualsiasi religione, a condizione di non compiere nulla contro l'ordine stabilito, diceva il testo dell'editto. Due mesi dopo, vale a dire il 13 giugno del 313, a Nicomedia, Licinio e Costantino emanarono poi una sorta di decreto attuativo dell'editto di Galerio, un mandato con valore di rescritto imperiale, quindi era una norma attuativa. Sembra che il nucleo dell'editto però risalisse effettivamente all'idea di Costantino, che secondo la tradizione ne aveva concordato il contenuto con il collega Licinio in un incontro tenutosi appunto a Milano, per questo passa la storia come editto di Milano, da cui il nome quindi del provvedimento. Il testo del documento non ci è pervenuto, ma è riportato nel contenuto da Lattanzi e da Eusebio, che furono testimoni degli avvenimenti. E quindi leggiamo dall'attanzio. Noi, Costantino Licinio e Augusti, riuniti a Milano per concordare una soluzione a ogni problema riguardante il bene e la sicurezza pubblica, abbiamo ritenuto, fra tutti i provvedimenti che ci pareva avrebbero giovato all'interesse della maggior parte degli uomini, di disporre questi che si fondano sul rispetto della divinità, di concedere cioè ai cristiani e tutti gli altri la libera possibilità di seguire la religione che ciascuno ha scelto, affinché tutto ciò che di divino esiste nella sede celeste si disponga benevolmente e possa essere propizio a noi e a tutti coloro che stanno sotto il nostro potere. Perciò, ragionando a favore del bene e in modo giusto, abbiamo creduto di prendere tale decisione, di non negare nessuno e in nessun modo la facoltà di dedicare il suo animo all'osservanza del culto cristiano o di quelle religioni che gli possa credere essere la più adatta per sé, affinché il Dio sommo, la cui religione noi liberamente seguiamo, possa manifestare a noi il suo consueto favore e la sua benevolenza. Bisogna dunque che l'eccellenza tua prenda atto che noi abbiamo stabilito, rese nulle tutte senza eccezione le disposizioni restrittive concernenti in nome dei cristiani trasmesse per iscritto in precedenza al tuo ufficio, di abolire le norme negative e non coerenti con la nostra clemenza e che ciascuno di coloro che coltivano il medesimo desiderio di seguire il culto dei cristiani possa ora farlo senza temere di essere molestato da nessuno. Noi abbiamo creduto opportuno portare a conoscenza della tua sollecitudine tale decisione nella loro competenza perché tu sappia che noi abbiamo concesso ai suddetti cristiani la libera e assoluta facoltà di praticare la loro religione. Quindi era un edito rivolto appunto a tutte le religioni. Il cristianesimo fu da questo momento quindi libero di manifestarsi e di diffondersi alla luce del sole. Nella prima metà del IV secolo tuttavia il cristianesimo si presentava ancora come una religione dei contorni molto sfumati, l'abbiamo detto anche questo più volte, dilaniato addirittura dalle controverse dottrinali e teologiche interne. Tuttavia nell'idea di stato di matrice dioclezianeo-costantiniana queste dispute erano una minaccia all'unità dello Stato che era una pretesa anche in materia religiosa. Costantino prese dunque fin dal 314 a interessarsi di questo aspetto. Lui interessa la politica del cristianesimo perché il cristianesimo è ciò che lui sceglie per avere consenso nella società quindi gli interessa che il cristianesimo non sia diviso fra più voci. Nel 314 Costantino patrocinò pur senza prendermi direttamente parte la convocazione di un concilio ad Arl che si doveva occupare di dirimere il problema del donatismo che imperversava allora in Africa. Il vescovo Numida Donato, in conseguenza della sua posizione intransigente verso coloro che sotto diocleziano avevano abbiurato il cristianesimo, i cosiddetti traditores, contestava la posizione ufficiale della chiesa che era invece propense a raccogliere i pentiti. Donato non tollerava che vescovi e preti che erano stati traditores amministrassero i sacramenti e si spinse a nominare vescovi alternativi a quelli ufficialmente nominati dalla chiesa. Potremmo quindi dire che la chiesa adotta una soluzione pacificatrice dopo le persecuzioni nel senso di riaccogliere al proprio interno anche coloro che avevano appunto abbiurato la fede cristiana, i traditores, mentre invece questo Donato dice no perché questi hanno abbiurato la fede in Gesù e quindi noi non possiamo riaccogliervi ma soprattutto non possiamo pretendere che questi amministrino i sacramenti, cioè è possibile che lo Spirito Santo attraverso dal cielo, da Dio discenda e vada verso il popolo attraverso questi personaggi che hanno abbiurato il cristianesimo? No, non è possibile secondo Donato che però al concilio di Arla viene condannato come re. Il problema più spinoso era tuttavia quello che riguardava la natura di Cristo e il mistero della Trinità vero e proprio cardine della teologia cristiana perché qua dovete fare un po' chi di voi ha una formazione cattolica, un po' di mente locale perché stiamo per parlare del credo che ancora oggi viene recitato nelle assemblee. Il problema della religione cristiana è estremamente complesso perché da un lato a livello di norme e pratiche di vita, ed è anche uno dei motivi per cui il cristianesimo ha avuto così tanto successo, il cristianesimo è una religione estremamente semplice, cioè al cristiano non vengono imposte particolari norme di purità come invece accade nell'ebraismo, pensiamo anche solo alle norme alimentari ad esempio, o altre cose, le norme pratiche di vita che il fedele musulmano ad esempio ricava dai cinque pilastri dell'obbligo della preghiera, l'obbligo della confessione di fede, pregare cinque volte al giorno, non mangiare carne di maiale, tutte queste cose qua. Il cristianesimo non le ha. Quindi di fatto è una religione che si basa sulla pura fede, tu devi avere fede in Gesù Cristo e nel suo messaggio di redenzione dei peccati, attraverso il battesimo, attraverso la fede, e va bene. Il problema dall'altra parte è che il cristianesimo da un punto di vista filosofico, concettuale, teologico, è invece la religione più complicata di tutte e la difficoltà dove sta? La difficoltà sta nella natura appunto di Cristo, uomo oppure Dio, perché un Cristo Dio pari a Dio padre e allora impone quella critica che i musulmani ancora riservano oggi ai cristiani, cioè di dire voi non siete monoteisti, voi siete politeisti, perché se mi dite che il figlio di Dio è Dio anche lui, gli dèi sono due, è inutile che mi veniate a raccontare, no? E qui sta, mi richiamo la memoria, quella frase del credo in cui si dice generato non creato della stessa sostanza di Dio, ok? E lì è in questa frase qua che risiede tutta l'estrema complicatezza del cristianesimo. E però per tornare al IV secolo, ai primi secoli della religione cristiana, dobbiamo dire che su questo aspetto filosofico della natura di Cristo fiorivano le voci più disparate e una delle numerose correnti nelle quali si articolava il cristianesimo tra il III e il IV secolo era infatti l'arianesimo. Il vescovo di origine libica Ario metteva infatti in discussione il rapporto tra il padre e il figlio, cioè tra Dio padre e Gesù figlio. Secondo Ario la concezione dell'unicità di Dio, cioè il fatto di voler dire di essere monoteisti, impediva di intendere Cristo figlio generato e quindi venuto dopo il padre come consustanziale, vale a dire come della stessa sostanza, vuol dire consustanziale, era un termine filosofico estremamente utilizzato e dibattuto in questo periodo, e di poter considerare il figlio come co-eterno al padre, perché la pretesa era quella lì, di dire guardate che Gesù figlio è della stessa sostanza ed è sempre esistito, e Ario dice ma no, perché invece la figura di Gesù è subalterna a quella di Dio, perché se è stato generato da Dio è ovvio che è esistito un tempo nel quale il figlio non esisteva. Inoltre Ario sosteneva che quando il figlio si era incarnato, allora in quel momento nella sua vita terrena non potesse affatto essere considerato Dio. E se noi leggiamo i Vangeli e diciamo le fonti più antiche del cristianesimo, ci rendiamo abbastanza conto che il racconto è abbastanza così, cioè Gesù che non è per nulla della stessa sostanza del padre. L'Ario esimo ed ebbe grande diffusione e fu appoggiato anche da alcuni tra i più importanti vescovi, come ad esempio quello di Nicomedia, che era un'importante sede vescovina in Asia minore. Le ragioni di tale diffusione stavano proprio nella maggior semplicità con la quale il messaggio di Ario affrontava un passaggio teologicamente e filosoficamente molto complesso da comprendere, e in ragione della sua semplicità l'arianesimo ebbe grandissima diffusione fra i ceti più umili della società romana e in seguito alla presenza, e questo è l'aspetto importante, in seguito alla predicazione del vescovo ariano di origine gota, ulfila, trovò un'amplissima diffusione fra le popolazioni germaniche. Non è il motivo per cui Hitler si richiama la razza ariana, è perché l'arianesimo, Hitler non gli conferiva alcun significato religioso, probabilmente non conosceva neanche la storia di Ario, però questa vicinanza del termine arianesimo con le popolazioni germaniche, con la storia delle popolazioni etniche germaniche dipende proprio dal fatto che queste si convertirono al cristianesimo ariano. E siccome in fila che Monica Gotto converte decine e decine di migliaia di barbari, tantissime tribù e popolazioni barbare che vivevano oltre i compili dell'impero romano, noi credo che questi diventano tutti ariani. Dunque l'adesione all'arianesimo piuttosto che al cristianesimo che poi si chiamerà ortodosso aveva anche dei risvolti sociali, perché se ad esempio vedi che tutti i ceti più umili della società sono ariani, ecco che tu imperatore puoi un attimo a questo punto preoccuparti, perché un eventuale scontro dottrinario fra le varie correnti della chiesa può sfociare anche in rivolte e ribellioni e ti poni la domanda, il potere centrale, l'imperatore, innanzitutto quale ruolo deve avere? E l'abbiamo detto vuole porsi come disciplinatore della situazione perché? Perché deve mantenere l'unità del corpo sociale, evitando che scoprino delle rivolte in un periodo di estrema decadenza dell'impero, soprattutto in Occidente. Quindi un anno dopo la sua vittoria contro Licinio nel 325, parliamo della battaglia di Crisopoli del 324, nel 325 Costantino promosse quindi la convocazione a Nicea, attenzione qua, a Nicea, nell'attuale Turchia nord-occidentale, la convocazione di un concilio ecumenico, vale a dire esteso a tutti i vescoli della cristianità, l'ecumene, che è di rimesso una volta per tutta la questione ariana. Questa volta però, a differenza del concilio di Arla, Costantino vi prese direttamente parte, seduto su un trono d'oro, incarnazione del potere secolare, che si poneva come superiore a quello spirituale. Attenzione quindi, l'imperatore è anche capo della chiesa, nel senso che è lui che convoca il concilio ed è lui che vi presenzia addirittura su un trono, perché nonostante Costantino si fosse presentato come semplice garante e custode del concilio senza facoltà di prendere decisioni in materia di fede, il suo ruolo della definizione del cosiddetto credo niceno fu appunto fondamentale. Ario e l'arianesimo vennero condannati come eretici. Ario venne esiliato e i suoi scritti dottrinari destinati a rogo. Il credo, proclamato in questo concilio di Nicea, che quindi si chiama il credo niceno, che è quello che conosciamo ancora oggi, divenne quindi il simbolo dell'ortodossia religiosa della chiesa cristiana. In questo credo viene ribadita la consustanzialità, che in greco si dice homousia, del padre e del figlio, della stessa sostanza del padre, generato e non creato. Queste sono le cose fondamentali che vengono ribadite in questo concilio così importante. E' qui che nasce il cristianesimo che allora veniva definito ortodosso. Eusebio di Cesarea, stretto collaboratore dell'imperatore proprio da questo 325, ci restituisce una suggestiva descrizione dell'apparizione di Costantino al concilio, facendo emergine in modo molto chiaro la centralità che l'imperatore riservò a se stesso in questa occasione. Ad un segnale si alzarono tutti e l'imperatore fece il suo ingresso. Egli, in persona, passò nel mezzo come un celeste angelo del Signore. Indossava una veste splendente di bagliori di luce e rifuggeva dei raggi fiammeggianti della porpora, adorno delle luci fulgide dell'oro e delle pietre preziose. Questo era il suo aspetto fisico, ma per quanto riguarda il suo animo era chiaro che egli si distingueva per il timore di Dio e per la devozione. Qua parliamo di un imperatore in mezzo a decine di vescovi, quindi addirittura si distingueva rispetto ai vescovi per il timore di Dio e la devozione che aveva. Così testimoniavano gli occhi bassi, il rossore del volto e il suo incedere. Per il resto delle sue eccellenze personali, egli superava tutti i presenti in statura e nella bellezza della forma, così come nella maestosa dignità del suo aspetto e per la forza invincibile e il suo vigore fisico. Quando raggiunse la prima fila dei seggi si fermò nel mezzo, si mise a sedere su un piccolo seggio d'oro massiccio e anche qua fa quasi sorridere, un piccolo seggio d'oro massiccio che gli era stato posto accanto, non prima di aver fatto cenno ai vescovi di fare altrettanto. E quindi ecco qua il ruolo di guida del potere. Potremmo prendere il concilio di licea come il momento in cui il potere politico romano, il potere temporale dunque si pone a guida del potere spirituale della chiesa. E qua è un momento che quindi segna tutta la storia dell'Occidente ma anche dell'Oriente perché attenzione ancora oggi noi vediamo, se fate mente locale, in questi anni di guerra ad esempio in Ucraina abbiamo visto e abbiamo letto spesso dichiarazioni del patriarca di Mosca, Kirill, della sua fedeltà a Putin e allo Stato perché in ambiente di quello che oggi chiamiamo cristianesimo ortodosso, qua parliamo dell'uscisma che è avvenuto intorno al 1000 e di cui parleremo ma va bene, la differenza tra cristianesimo cattolico in Occidente e cristianesimo ortodosso in Oriente è anche quella appunto che ancora oggi il patriarca delle chiese orientali è un funzionario pubblico, quindi è appartenente ed è fedele alla gerarchia dello Stato, mentre viceversa in Europa è stato fatto con grande difficoltà e attraverso accelerazioni, frenate, ritorno indietro e salti in avanti, una sorta di separazione quantomeno da un punto di vista giuridico formale del potere della chiesa rispetto a quello dello Stato. In ogni caso lo vedremo ma comunque alcuni storici hanno sostenuto che per Costantino sarebbe stato indifferente addirittura chi avrebbe prevalso il concilio dal momento che se l'arianesimo oppure la dottrina che poi è stata definita ortodossa, dal momento che il suo solo obiettivo era l'unità dei cristiani all'interno dell'impero. Tuttavia nella scelta dell'ortodossia definitiva prevalse la concezione delle più alte sfere della chiesa, non quella che piaceva al popolo perché era più semplice, quella degli ariani, ma quella dei grandi filosofi della chiesa, dei grandi teologi, quelli che un concetto di consustanzialità fra un padre e un figlio riuscivano a capirlo e a raccontarlo, anche a spiegarlo. E quindi quella è la scelta che fa Costantino, che dà quindi preeminenza alla gerarchia della chiesa, al potere che veniva già espresso dalle gerarchie della chiesa, la corrente maggioritaria tra i vescovi, che già all'epoca rappresentavano un'organizzazione articolata e solida in grado di rappresentare e sostenere il potere imperiale, cioè il vescovo già in quest'epoca qua è in grado di diventare un preziosissimo alleato per un potere imperiale che si fondava praticamente su un gigantesco ordine di funzionari burocrati, immaginate di aggiungere a questi anche i vescovi, che quindi possono dare oggettivamente una mano al potere come controllo, tra virgolette, del territorio, per la presa che hanno sui fedeli. La soluzione di Micena fu anche e soprattutto forse una soluzione politica quindi, che faticò però non poco ad affermarsi in Occidente, l'abbiamo detto, era molto complicata. Tra l'altro bisogna dirlo che l'Occidente era ben poco rappresentato dai vescovi a Nicea, che invece erano più vescovi orientali. Tuttavia anche in Oriente il credo niceno ci mette parecchio prima di potersi affermare. Per decenni la popolazione infatti continua ad abbracciare l'eresia ariana, con l'adesione anche di alcuni successori di Costantino, come Costanzo II e Valente, che furono appunto ariani. Fu necessaria, verso la fine del secolo, un'azione energica ed autoritaria da parte di Teodosio, per fare in modo che il credo niceno attecchisse anche fra la popolazione. E aggiungo io, venne anche elaborato un modo per far giungere questo messaggio niceno, pure per nasconderlo un po', ma per farlo giungere al popolo, in una versione che fosse comprensibile al popolo. Le conseguenze del concilio di Nicea, a prescindere però da quelli dottrinali, furono molteplici. Dopo Nicea fu evidente che il centro dell'impero, non solo religioso, ma anche politico, si fosse ormai spostato ad Oriente. Il concilio fu disertato dai vescovi occidentali e in effetti si esclude la personalità di Ambrogio, vescovo di Milano, fra i più famosi, anche patrono di Sant'Agostino. Il dibattito dottrinario e teologico del IV secolo si sarebbe svolto esclusivamente a Oriente, ma perché ve l'ho anche detto, la parte orientale, è quella dove ci sono ancora gli studi filosofici, culturalmente più avanzata, quindi anche una parte dell'impero più interessata e anche più competente a svolgere un dibattito teologico su temi così complessi. Il concilio di Nicea è considerato anche come il momento fondante del cosiddetto cesaropapismo, ovvero la predominanza del potere imperiale su quello spirituale, Cesare sul Papa, questa è la fusione di questi due termini, un termine che impareremo a conoscere molto bene durante la storia del Medioevo, ed è un principio che fra il IV e V secolo si affermò definitivamente, soprattutto nella parte orientale, anche qui dell'impero, e nella parte orientale dell'impero rimane ancora oggi il cesaropapismo, come abbiamo detto poco fa, mentre nella parte occidentale si è affermata la figura di un vertice della religione, vale a dire del Papa, che però è riuscito, grazie a tutta la lunga vicenda medievale, a conservare un potere, anche temporale, indipendente da quello dell'autorità. Infine il concilio di Nicea aprì la strada al binomio stato-chiesa che avrebbe caratterizzato la storia occidentale nei secoli successivi. Costantino, tra il 325 e il 335, emanò una serie di provvedimenti fiscali in favore del clero cristiano, la concessione di beni alle chiese, le agevolazioni fiscali per la gerarchia ecclesiastica, la dispensa dei chierici del servizio delle curie cittadine. In verità però si equiparavano i sacerdoti cristiani a quelle delle altre religioni, cioè queste concessioni che Costantino fa per le altre religioni esistevano già, ma è significativo riflettere sul fatto che solamente pochi decenni prima effettivamente i cristiani fossero ancora stati oggetto di una persecuzione sistematica da parte di Diocleziano, quindi in meno di trent'anni la situazione è cambiata clamorosamente. Il clero seppe comunque sfruttare la concessione di questi privilegi per porsi come interlocutore privilegiato del potere imperiale. In pochi decenni la chiesa divenne un soggetto politico parallelo, a volte addirittura concorrenziale agli altri protagonisti della scena politica tardo-imperiale. Come ulteriore elemento per capire il rapporto fra chiesa e Stato dobbiamo anche pensare che siamo in un periodo di decadenza nel quale non è più come nel secondo secolo in cui gli studi, le scuole, le scuole pubbliche esistevano e diffondevano ovunque la capacità di leggere, di scrivere, di lettere di conseguenza sul mondo, ma ormai la cultura soprattutto in occidente, se in oriente ancora abbastanza diffusa, in occidente comincia ad essere appannaggio veramente di pochi. Fra questi pochi ci sono i vescovi e i sacerdoti del cristianesimo, loro devono leggere e interpretare e spiegare le sacre scritture, quindi per forza quello lo devono sapere. Di conseguenza è anche naturale che poi diventassero interlocutori privilegiati del potere, perché potevano essere interlocutori, perché conoscevano il linguaggio del potere. L'interpretazione storica odierna sulla politica e religione di Costantino prescinde dal suo genuino interesse spirituale verso il cristianesimo, infatti non ci siamo neanche posti il problema se Costantino credesse effettivamente o no in Cristo e fosse effettivamente convertito al cristianesimo, interessa nulla da un punto di vista storico, questa cosa che leggiamo in tutte le fonti cristiane, ci interessa invece sapere il rapporto così politico e potremmo dire addirittura costituzionale che viene a crearsi fra lo Stato e la Chiesa grazie all'operato di Costantino. E abbiamo detto che quindi se sottraiamo un elemento così di fede genuina dal discorso, quello che rimane, quello che possiamo constatare è che le scelte di Costantino in materia religiosa vennero improntate a un principio che potremmo dire di realismo politico, di realpolitik che intendeva fare dei cristiani un bacino di consenso solido, stabile e unito all'imperatore e allo Stato. E Costantino in effetti non ostacolò la professione di fede pagana, non allontanò i pagani dalle cariche amministrative e questi continuarono ad essere moltissimi fra l'entourage più vicino all'imperatore. Non contrastò l'antica tradizione religiosa romana e fu un imperatore che ricoprì la carica come tutti gli altri prima di lui di Pontefice Massimo, che era la massima autorità religiosa della religione tradizionale romana. Quindi nonostante i tentativi della propaganda cristiana di presentarlo come il fondatore dell'impero cristiano, addirittura come un santo, queste furono tutte elaborazioni successive risalenti almeno all'inizio del V secolo, quando il cristianesimo aveva ormai raggiunto davvero il grado di religione di Stato. Passando agli altri rispetti della politica interna invece costantiniana, chiudendo il grande capitolo della religione, dobbiamo riportare un'ulteriore definizione del ruolo delle prefetture del pretorio, che con Costantino, proseguendo la linea tracciata dal diocleziano, perdettero completamente il ruolo militare. Sotto Costantino i prefetti divendero la seconda autorità dello Stato, seconda solo all'imperatore, vicari dell'imperatore nelle quattro prefetture in cui l'impero era stato diviso, quindi quella della Gallia, quella dell'Italia, quella del Lirico e quella dell'Oriente. Costantino completò il processo di ridefinizione, di razionalizzazione dell'amministrazione imperiale, iniziata da Diocleziano, in particolare concentrò la sua attività regolatrice sull'apparato burocratico, che era il filtro tra il potere centrale e le amministrazioni locali. L'altro lato della medaglia, però, di questa organizzazione amministrativa fu che assunse quasi subito un carattere ipertrofico e anche questo, se noi pensiamo ogni tanto ai meandri della burocrazia italiana, nel quale tutti ogni tanto ci troviamo invischiati, sappiamo, abbiamo presente cosa vuol dire un apparato burocratico ipertrofico, perché il numero degli addetti alla pubblica amministrazione raggiunse proporzioni mastodontiche, tanto che numerosi studiosi ritengono che il costo di mantenimento di un simile apparato fu direttamente causa della decadenza dell'impero romano, e anche in questo caso qua, ritorno a quanto detto in apertura, siamo così certi di voler dare a Costantino un ruolo così fondamentale, visto che le sue riforme, in linea con quelli di Diocleziano prima di lui, in realtà però non hanno risollevato l'impero, sì, l'hanno tenuto unito apparentemente, il problema è che era un impero completamente in decadenza, e se per tenerlo unito ha dovuto fare questo gigantesco apparato burocratico e però i costi di questo apparato burocratico hanno fatto crollare l'impero, allora è difficile così avere un'idea così positiva dell'abilità politica di Costantino, però in particolare sotto il regno di Costantino assunsero a rilievo quattro altissimi funzionari civili posti a capo di quelle che oggi definiremmo i ministeri chiave dello Stato, e parliamo del Magister Officorum, del Questor Sacri Palati, cioè il Questore del Sacro Palazzo, il Comes Sacrarum Largizionum e il Comes Rei Private. Secondo gli studiosi queste figure rappresentarono l'evoluzione di figure già presenti nell'amministrazione imperiale del III secolo, cui però mancava una vera e propria istituzionalizzazione. Sotto Costantino, secondo alcuni sotto suo figlio Costanzo II, essi divennero membri permanenti del concistoro dell'imperatore, sono dei superministri. Costantino non aveva insomma però inventato nulla, si era limitato a dare una sistemazione istituzionale a figure già presenti alla corte imperiale. Tuttavia, questa strategia ebbe come contraltare la creazione di un nuovo strumento di pressione politica sulla figura dell'imperatore, una pressione che si sarebbe fatta sentire in tutta l'età tardo-imperiale, quindi di nuovo bravo o non bravo Costantino. Accanto all'esercito, la gerarchia eclesiastica è ciò che rimaneva nel Senato, cioè l'apparato burocratico, in particolare i vertici dell'amministrazione statale, diventano sotto Costantino un gruppo di pressione vero e proprio sul potere imperiale. Costantino promosse anche una riforma dell'esercito. Secondo lo storico pagano attivo alla corte bizantina tra il V e il VI secolo, Zosimo, la riforma di Costantino rese l'esercito però più debole. Secondo Zosimo, che era fortemente critico degli imperatori cristiani del IV secolo, essendo lui pagano, Costantino avrebbe sconfessato l'idea di Diocreziano di creare pressivi di stabili sul territorio, optando invece per un esercito mobile preparato a spostarsi in caso di emergenza. Le fonti documentari e archeologiche dimostrano però che Costantino non sguarnì mai i confini, ma in aggiunta alle guarnigioni stanziali creò un esercito mobile definito esercito comitatense e seguiva l'imperatore nei suoi spostamenti, servendo da supporto delle altre legioni all'occorrenza. Così come aveva fatto nel campo civile, con la riorganizzazione dei prefetti, anche in campo militare, Costantino creò nuovi comandanti militari in capo, soggetti solamente all'autorità dell'imperatore, il magister peditum e il magister equitum, che erano detti presentalis, cioè collegati al comitatus imperiale. I due comandanti supremi della fanteria peditum e della cavalleria equitum venivano spesso unificati nella carica suprema di magister utriusque milizie, cioè il maestro di entrambe le milizie, vennero cioè dei fan della fanteria e della cavalleria. Vennero creati anche dei magistri militum con competenze regionali, cioè magister militum per africam, per illiricum e così via. Con il tempo anche le cariche ai vertici dell'apparato militare vennero ricoperte da generali di origine barbarica. Era già una pratica risalente al III secolo, ma il Tardo Impero sarà caratterizzato da un numero sempre più elevato di ufficiali di origine barbarica. L'enorme potere militare dei maestri, dei magistri, li avrebbe presto portati a giocare anch'essi un ruolo decisivo negli indirizzi politici dell'impero, fino ad orientare al loro arbitrio le politiche degli imperatori più deboli. Anche per quanto riguarda la politica fiscale, Zosimo esprime un parere fortemente negativo su Costantino, che avrebbe semplicemente introdotto nuove tasse per aumentare l'entrata dello Stato, le fonti, insistono poi sul fatto che queste imposte gravassero soprattutto sull'aristocrazia senatoria. Qua bisognerebbe quindi domandarsi se Costantino fosse uno che aveva emanato anche lui delle patrimoniali, perché se sono imposte che gravano sull'aristocrazia senatoria, sembrano quelle che oggi noi definiremo delle imposte patrimoniali. La gleba senatoria era una tassa fondiaria imposta ai senatori. La collazio lustralis era a carico dei membri delle corporazioni professionali. L'aurum conorarium era riscosso dalle città in occasione dei giubilei imperiali. Queste imposte venivano riscosse in metalli nobili dalla fine del IV secolo esclusivamente in oro. Era la volontà di Costantino di avere delle riserve di metallo prezioso che potevano essere convertite in monete. Siamo in un momento di decadenza, abbiamo già visto come le requisizioni forzose da decenni vengono fatte in natura, abbiamo visto come l'economia monetaria si è contratta fino a far rinascere anche forme di baratto e scambi in natura. Specchio della decadenza dell'impero. In ogni caso dal 309 al 310 venne creato il solidus, una moneta d'oro più leggera dell'aureus, un settantaduesimo di libra contro un sessantesimo, che sarebbe stata destinata a diventare la moneta più utilizzata nel tardo impero e successivamente nell'impero bizantino. Costantino cognò poi nuove monete d'argento e di bronzo, destinata a sostituire gli enti circolanti che erano ormai troppo svalutati. Il solidus, che vedete qui rappresentato, era una moneta il cui valore nominale si avvicinava a quello reale e pertanto andò ad assicurare i detentori di grandi patrimoni, quindi da una parte tassa i grandi patrimoni, ma d'altra parte la politica monetaria era tutto vantaggio di questi ultimi, ma determinò anche, secondo quella legge di Gresham, che dice che la moneta cattiva scaccia quella buona, un depreciamento delle altre monete, impoverendo ulteriormente i ceti più bassi della società romana. Quindi, da un punto di vista, la politica monetaria degli imperatori, tutti quelli che abbiamo visto, eccettuati quelli che vivevano nella congiuntura economica favorevole fra prima e secondo secolo, sono sempre stato un disastro. La disuguaglianza continuava ad aumentare in una società nella quale ormai si potevano contare pochi ricchissimi a fronte di molti poveri e qua vorrei ricordare quel discorso, quel ragionamento che abbiamo fatto parlando di Diocleziano e vale a dire del fatto che Diocleziano avesse in mente di cristallizzare la società, no? E quindi immaginatevi una società senza mobilità sociale nella quale sono sempre più i poveri e a fronte di un gruppo ristrettissimo diritti. Anche in questo caso qua il tardo impero e la decadenza e il crollo dell'impero romano d'Occidente possono avere spunti di analisi fondamentali per l'epoca in cui viviamo. Il significato della storia poi fondamentalmente questo qua ci deve dare degli spunti di analisi per il nostro presente. Mi rendo anche conto di non essere così propenso a raccontarvi degli aneddoti ad esempio perché dal mio punto di vista l'aneddotica è una cosa che può essere bella, simpatica, può essere anche erudizione se volete ma è una cosa che non serve praticamente a nulla. Nince nelle sue considerazioni sull'inutilità della storia su cui torneremo probabilmente più volte ci dice che la storia antiquaria è una delle cose più inutili che esistano e in secondo luogo che la storia però non deve diventare un manuale da applicare in senso matematico al presente perché invece in questo caso rischierebbe di soffocare e bloccare lo spirito umano se si rifà solo ai suoi precedenti storici in pratica. Però la storia invece è maestra, magistra vita e quindi è spunto di analisi. E quindi questa è la concezione sia di questo corso e della categoria con la quale cerchiamo di interpretare gli avvenimenti. E quindi questo tardo impero è ricchissimo di spunti di analisi sul nostro presente perché viviamo in un presente povero di risorse, viviamo in un presente di crisi, di una società che invece sembrava quella della società nata dopo la seconda guerra mondiale per intenderci. Comunque ci torneremo. Tornando a Costantino un altro aspetto fondamentale del suo regno fu la sua decisione subito dopo la vittoria sul Gicinio di creare una nuova città in oriente che sarebbe diventata non solo la sua residenza ma anche fatto rivoluzionario una nuova capitale dell'impero. Progressivamente qui è parata Roma da tutti i punti di vista, dal punto di vista politico, istituzionale, culturale e ideologico. Non possiamo affermare che questo fosse nei piani di Costantino quando concepì l'idea di fondare questa nuova città. Tuttavia già dalla metà degli anni venti del quarto secolo quando il progetto si stava affermando l'appellativo che circolava a corte era quello di Nuova Roma o Seconda Roma. Il sito precedente era quello sul Bosforo dell'antica città greca di Bisanzio e il nome precedente come quello di Costantinopoli, oggi ovviamente Istanbul. Nei primi mesi del 325 alla vigilia del concilio di Nicea avvenne la sovendina cerimonia di inaugurazio secondo il rito tradizionale pagano per la fondazione di nuove città alla presenza di un pontifex e di un augure. Quindi vedete che aveva appena fatto, eravamo nei mesi del concilio di Nicea, viene inaugurata, fatta questa cerimonia solenne di inaugurazione di Costantinopoli e che quale rito utilizza Costantino? Il rito pagano tradizionale. È stato affermato che il rispetto della tradizione pagana fosse una sorta di compensazione per il ruolo politico riservato al cristianesimo, ma non ci sono prove per affermare che invece si trattasse di altro se non del rispetto e della tradizione romana, soprattutto da un punto di vista giuridico perché ricordiamolo sempre tutte le cerimonie, i riti della religione civile romana avevano un loro aspetto giuridico, quindi era valida la fondazione di una nuova città se si seguivano tutti i viettami rituali della tradizione, della tradizionale religione. In ogni caso Costantinopoli fu fin dal principio accostata a Roma. Costantino dopo una fugace apparizione nel 326 a Roma in occasione del festeggiamento dei suoi vent'anni di Reni vicennaglia non tornò più a Roma. La consacrazione ufficiale di Costantinopoli avvenne l'11 maggio del 330, anche in questo caso nel rispetto del più solenne cerimoniale tradizionale latino e pagano. Secondo una tradizione più tarda sarebbe stato lo stesso Costantino, novello romolo, a tracciare il solco del pomerium, cioè del recinto sacro, con la propria lancia, del recinto sacro della nuova capitale. La parificazione di Costantinopoli a Roma fu graduale ma costante. Venne dotata di un proprio senato giuridicamente equiparato a quello di Roma, anche se i suoi membri inizialmente provenivano dalla borghesia benestante piuttosto che da famiglie di antichissima tradizione che non erano disponibili, non c'erano, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una nuova tradizione aristocratica. Le corporazioni professionali ricevettero delle agevolazioni pari a quelle romane. La plebe costantinopolitana ottenne lo stesso privilegio delle distribuzioni alimentari gratuite. La guida della città venne affidata ad un prefetto urbano espresso dal senato esattamente come a Roma. Da un punto di vista ecclesiastico si affermò ben presto la parificazione tra il vescovo di Roma e quello di Costantinopoli. Ovviamente questo processo di parificazione generò anche delle tensioni. I senatori di Costantinopoli erano percepiti come inferiori dai colleghi di Roma, ma è ovvio. Libanio, retola del IV secolo, non esitò ad etichettare i senatori di Costantinopoli come dei parvenus. Considerato il fatto che questi nuovi senatori provenivano dalle alte sfere della burocrazia imperiale e che nello spazio di una generazione possiamo attestare ad affermarsi di una nuova aristocrazia senatoria, è da dire che mai questo nuovo senato riuscì a scaltire il prestigio di quello di Roma, anche da un punto di vista di effettivo esercizio di pressione politica sull'imperatore. Perché il senato romano nonostante la divisio imperi, cioè la divisione dell'impero che poi verrà così ufficializzata nei decenni successivi fra pars occidentalis e pars orientalis, riuscì sempre il senato romano a superare la barriera geografica facendo sentire la propria voce anche nella parte orientale dell'impero. L'aspetto nel quale Costantinopoli riuscì effettivamente a distinguersi da Roma è rappresentato dal fatto che essa fu la prima capitale cristiana dell'impero. Costantino aveva inaugurato una politica urbanistica di costruzione di edifici cristiani a Roma, la basilica di Costantino è famosissima a Roma, la basilica paleocristiana anche in quel caso lì, ma una completa riconversione di Roma al cristianesimo da un punto di vista urbanistico non era possibile almeno nel breve periodo. La nuova città invece fu pensata fin dall'inizio come città nella quale il cristianesimo avrebbe avuto un ruolo di primaria importanza. Vivenne ben presto diocesi, sede vescovile e vi fu costruita una delle più importanti sedi della cristianità, l'apostoleion o meglio conosciuta come chiesa dei santi apostoli. Costantino peraltro si autodesignò come appartenente alla categoria degli apostoli, iso apostolos, cioè pari agli apostoli definiva Costantino se stesso. La creazione di una nuova capitale testimoniava in ogni caso la perdita di centralità di Roma, questo bisogna dirlo, e dell'intero occidente imperiale. Il baricentro economico dell'impero, l'abbiamo detto, si era spostato da tempo verso est. Roma era lontana dai centri nevragici, politici e militari dell'impero. Roma risultava scomoda anche per le caratteristiche delle vie di comunicazione dell'epoca per le quali invece Costantinopoli rivestiva un ruolo strategico. Anche da un punto di vista militare favoriva un costante controllo del problematico fonte persiano e non era lontano neanche dal forronte danubiano. L'inadeguatezza di Roma a ricoprire il ruolo di capitale emerge anche dalla considerazione che nello stesso occidente gli imperatori avrebbero già preferito altre sedi, avrebbero preferito altre sedi come Treviri, Milano, Arl e successivamente Ravenna. Alla morte di Costantino nel 337 avevano il titolo di Cesare i suoi tre figli, Costantino II, Costante e Costanzo II, insieme al nipote, il quarto Cesare, Flavio Dalmazio, ultimo in ordine di tempo ad ottenere quel titolo. Non essendo a disposizione di informazioni dalle fonti sullo schema di successione previsto da Costantino, non sappiamo quale fosse l'idea di Costantino, un'ipotesi recente ha affermato che alla morte dell'imperatore sarebbe scattata l'automatica nomina dei figli ad Augusto, mentre il nipote avrebbe continuato a mantenere la carica di Cesare, con la riurisdizione sulla Traccia, la Caglia e la Macedonia, cioè le sue parti della Grecia. È possibile, insomma, che Costantino prevedesse alla sua morte un parziale recupero del sistema tetrarchico, con tre Augusti e un Cesare. Ciò che accadde tuttavia successivamente rende più complicato e, se probabilmente inutile, stabilire quali fossero le reali intenzioni di Costantino, perché dopo la sua morte, per decisione di Costanzo II, vennero eliminati il nipote Flavio Dalmazio e altri membri della famiglia per eliminare potenziali pretendenti al trono. Quindi vediamo come, anche da un punto di vista di costruzione istituzionale, la così propagandata solidità e unità dell'impero che abbiamo detto tantissime volte, parlando di Diocleziano e parlando di Costantino, in realtà però non regge mai ai propri creatori. Questo ovviamente deve gettare un'ombra sul giudizio di grandi riformatori e di fondatori dell'impero tardo antico di Diocleziano e Costantino, perché sì, possiamo dire che hanno rifondato, riplasmato un istituto diridico che è rimasto decadente e per quanto riguarda la sua parte occidentale agonizzante. In ogni caso vi saluto e vi ricordo che per rimanere aggiornati con le prossime uscite potete iscrivervi al canale. A presto, ciao a tutti!